ok ragazzoni oggi faremo vedere l'allenamento per i polpacci tre step molto importanti allora a proposito abbiamo 10 10 kg sul totale sono 20 di recupero 40 secondi bara un minuto e niente detto ciò iscriviti al canale e iniziamo con questo video ormai da un po di giorni che lo sto facendo alberto miglio la potete fare 3 per 10 2 per 15 io oggi faccio due per 15 questo è il primo e il secondo è così da fuori e questo è il terzo senza niente quindi se non siete in paese sapete farlo anche a casa chi dice che non si può allenare a casa è solo un stupido prima sera è quasi finita qualche 15 devo fare due per 15 bene detto ciò se il video vi è piaciuto iscrivetevi mettete una campanellina condividetelo commentatelo e se volete vedere altri video sapete già cosa fare è è Grazie.